Il tema della piazza quest'anno è il tema della semplicità, penso più che altro. La semplicità è quello che ha distinto il nostro studio da quando abbiamo iniziato e di lasciare la piazza così pulita, con le piante appoggiate e avere rispetto per le persone che sono venute prima di noi. Questa è la cosa principale. Poi che sia uno spazio che porti del benessere e che non impoverisca. Il resto sono sensazioni personali delle persone, non posso dire più niente.